Musica Nella consueta conferenza stampa di fine anno, il commissario Dario Galli ha illustrato gli interventi più importanti che l'ente provinciale ha eseguito nel 2013. Musica Di fatto siamo un po' in questa situazione particolare perché con il primo passaggio alla Camera della legge del Rio, le province di fatto dall'anno prossimo dovrebbero mutare profondamente, nel senso che in realtà restano esattamente come adesso, nel senso che le competenze in gran parte rimangono le province, il nome provincia non viene abolito come sembrava in un primo momento, non si parla di accorpamenti, non si parla di altre cose, non si parla di eliminazione come si diceva all'inizio e qui sarebbe stato il vero risparmio di tutti gli uffici statali decentrati sul territorio, ma semplicemente si passa dalla elezione del presidente per via diretta da parte dei cittadini all'elezione attraverso l'assemblea dei sindaci eletti nel territorio. Quindi da una parte teoricamente un piccolo risparmio tutto da verificare e dall'altra comunque si toglie un passaggio comunque come dire di democrazia diretta e non credo che in questo senso sia un avanzamento positivo dal punto di vista complessivo. In ogni caso, siccome c'è molta in definizione su tutta la questione e abbiamo visto negli ultimi due anni come molti leggi sono state poi o non portate a termine o poi cancellate dalla Corte Costituzionale, noi ci comportiamo come se il tutto dovesse andare avanti normalmente e anche qui come sempre prima provincia d'Italia, già nel mese scorso abbiamo fatto il bilancio preventivo non del 2013, come stanno facendo, hanno appena fatto gran parte degli enti pubblici italiani, ma come si dovrebbe fare in qualunque paese europeo normale del 2014. Quindi la provincia ha già previsto appunto il bilancio dell'anno prossimo dove continuiamo nella nostra strada di riduzione dei costi intrapresa ormai molti anni fa e che hanno portato la nostra provincia ad avere un costo pro capito ormai tra i più bassi, per non dire il più basso d'Italia, nonostante il mantenimento di un livello mi auguro assolutamente decoroso dei servizi che la provincia appunto per legge è obbligata a fornire. Quindi in questo senso diciamo le cose da mettere in evidenza particolare perché sono quelle che poi interessano più i cittadini, sottolineiamo che sia nel 2013 come poi nel 2014 abbiamo una situazione degli edifici scolastici assolutamente sotto controllo, nel senso che pur con tutti i problemi le nostre scuole sono in ordine, sono al 100% con certificazione statica, al 100% con certificazione antincendio già ottenuta o in autocertificazione come prevista dalla legge, oltre ad aver avuto significativi interventi dal punto di vista energetico, tant'è che tra pannelli fotovoltaici, pozzi geotermici, interventi di efficientamento abbiamo anche qui ottenuto un significativo risparmio dal punto di vista delle spese di mantenimento degli edifici stessi. Stessa cosa possiamo dire per le strade, ricordiamo la provincia ha quasi 750 km di strade provinciali, normalmente abbastanza ben curate, tant'è che gli asfalti vengono rifatti periodicamente, la manutenzione è allo stesso modo e anche qui ogni anno riusciamo pur con molta fatica a mettere i 6-7 milioni di euro che servono appunto per mantenere in condizioni decorose tutte le nostre strade provinciali. Non abbiamo dimenticato per quanto possibile dei residui e i fondi di continuare a fare comunque aggiunte al nostro patrimonio di piste ciclabile o di ristrutturazione di siti particolarmente rilevanti, ricordiamo i più importanti, Santa Catania del Sasso, Monasterio di Carati, il Chiostro di Voltorre, la Bazzia di Ganna e molti altri, tale per cui continuiamo ad avere comunque una situazione anche dal punto di vista per esempio dell'interesse turistico assolutamente anche qui adeguata e manteniamo le nostre cose particolarmente belle, sempre attrattive per i turisti. Ci siamo anche impegnati nelle grandi manifestazioni sportive, ricordiamo il grande successo anche quest'anno dei mondiali master di canottaggio che sono fatte sia appunto per il valore sportivo che in sé hanno ma soprattutto come abbiamo sempre detto per il valore veramente promozionale del territorio. Ricordiamo quest'anno scorso con gli europei che quest'anno con i mondiali master le giornate di riprese televisive che sono andate in mondo visione pubblicizzando e promuovendo quindi la città di Varese, il circondario ma in realtà tutta la provincia con le sue bellezze. Anche quest'anno proprio come gli anni scorsi abbiamo ulteriormente ridotto il costo complessivo di funzionamento agendo soprattutto sulla leva del costo del personale perché anche quest'anno come sempre abbiamo praticamente non sostituito proprio zero turnover per quanto riguarda il pensionamento dei nostri dipendenti e eliminato quel pochissimo residuo che era rimasto diciamo di rapporti di consulenza esterna o comunque di lavori cosiddetti atipici. Tant'è che oggi con circa 17 milioni di euro e 450 dipendenti scarsi siamo in rapporto alla popolazione e alla provincia che spende meno per il personale. Quindi per chiudere oltre a tante altre cose che potremmo dire, un anno che pur con difficoltà si è chiuso comunque riuscendo appunto a tenere insieme i conti in maniera decorosa, un anno che con tutte le difficoltà che tutto il paese attraversa in particolare agli enti pubblici, vede comunque la provincia di Varese mantenere la posizione senza per dire rinunciare a cose particolarmente significative. I video e le ultime notizie dalla provincia di Varese sono sul sito www.provincia.va.it